Eccoci, nuova puntata di Facciamolo, seconda puntata, oggi ospitoni, una coppia, che parlando di sesso e relazioni è tosta, sono Beba e Gabriele Annakin Ciao Allora, Beba è una cantante rapper Perché stringi l'occhio? No, è un tic Beba è una cantante rapper Una cantante rapper Sono una cantautrice E visto come ti ho semplificato il mestiere Anche a wikipedia se voleste poi scriverlo Mi sa che puoi mandare la cosa della modifica Invece Gabriele Annakin è un tatuatore Influencer tatuatore Influencer è un po' dispregiativo Non so per quale motivo poi la parola influencer negli anni sia diventata un po' È un inkfluencer Sì, perché ora viene vista come le persone che non fanno niente Ma magari Sì, davvero Davvero Lavori 24 ore su 24 se lavori con i social Quindi è tosta Però tatuatore Tatuatore che ha acquisito un pochino di notorietà Un bel po' in realtà Un pochino Quando siamo conosciuti era Ma tu sei il ragazzo di Beba Adesso è No dai, ma tu sei la ragazza di Annakin Capito, sì, che scalata Tu fratello Capisco, capisco bene Ehm Beh voglio fare una domanda Io vi ho introdotto così sommariamente Però a me mi dà fastidio tipo quando Gli ospiti vengono introdotti E vengono ridotti a Lui fa questo, lei fa questo Quindi vi chiedo Volete aggiungere qualcos'altro su chi siete? Chi siete? No, moce l'hai messa giù complicatissima Perché ora dobbiamo aggiungere qualcosa di incredibilmente inaspettato Io ho partito i fomentati, si è spento tutto Lo sai come la sviniamo sempre? Siamo diaboliche Eva No? Il segreto? No, dobbiamo sempre giocarcela come Siamo giovani imprenditori Ah, quello che diciamo quando chiediamo l'affitto di casa Esatto, siamo a chiedere casa Quando chiediamo casa E ci fanno magari il signore dei 70 anni E ci chiede Ma cosa fate voi nella vita? Io ho il tatuatore, la cantante Capito? Sì, ciao Avanti il prossimo Quindi siamo giovani imprenditori E così almeno ci lasciamo le porte aperte a qualsiasi altra prospettiva Diciamo che abbiamo le carte per poter fare Anche altro nella vita In questo momento, in questa fase della vita Io mi sto concentrando sulla musica E lui, vabbè, lui in realtà è molto più poliedrico di me Nel senso che lui fa realmente Io faccio uno di tutto Se mi dico, senti, ah voi mezza piatta sì Lo faccio No, vabbè Fa realmente tante cose Io invece sono un po' più Effettivamente Mi concentro un po' di più sulla musica Però nella vita non si fa mai Bene, bene Comunque essere la sua ragazza è un lavoro a tempo pieno Quindi devo dire che Ma in qualsiasi relazione Poi a gratis, eh Bene ragazzi Vi faccio una domanda che vi viene posta spesso Come vi siete conosciuti? Voglio tutte e due le versioni Dipende, vuoi la versione vera? No, no La versione mia? La versione sua? Voglio la vostra versione Perché qua c'è un po' A scelta libera C'è un po' il meme, no? Che io e lui non diciamo mai la vera storia Perché in realtà Se te la racconta lui La storia vera è un po' deludente Se te la racconto io Dai I miei occhi Io sono una molto Oltre che romantica Molto che credo Nelle energie Nella legge dell'attrazione Vedi che è già noiosa, capito? Comunque è molto romantica Se te la racconto io Però diciamo che effettivamente Semplificarla La renderebbe Vabbè Vuoi raccontare una cazzata? Allora praticamente Senti che è successo Ecco Tutto in freestyle poi eh Va benissimo A me quella che mi ha fatto ridere più È quella del cocktail Quella mi ha aggripato Se vuoi te li racconto quella No, no, no Ne voglio un'altra Però ci dovevo pensare due secondi Allora te la racconto Te la racconto io Te ce n'hai una già pronta? No, boh Sto improvvisando Allora Eravamo In un backstage Di un concerto E io Di chi? Non si può dire Perché era comunque Un cantante con cui io avevo Una mezza storia Jake Lafuria Vabbè Ti ho detto che non si può dire Vabbè E Vabbè Avevamo un mezzo Inciuccio Ovviamente non era Jake Lafuria Inciuccio che vuol dire? Ah scusami Inciuccio Che cosa è? Eh a Torino si dice così Un mezzo Ma Roma si dice così Inciuccio si dice a Torino Senti A Roma è inciuccio A Torino è inciuccio Eh Che ne sai? Eh l'ho capito adesso Ah ok ok Perché a Roma è inciuccio Te so Inciuccio Vabbè comunque questi cazzi Avevamo un mezzo flirt Quindi io mi trovavo In questo backstage Alla fine nel concerto E aspettavo che lui Questo cantante Tornasse Quando è tornato Questo cantante Ho visto che aveva Più occhi per lui Che per me in realtà Cazzo mia Ma scusami Ma cosa sta succedendo? Chi è questa persona? Perché Suscita tutto questo interesse In questo cantante Al che Mi sono avvicinata E gli ho detto Senti ma tu che fai? Cioè che fai stasera? E lui mi ha risposto Te scopo Te Esatto Dai Ma me la potevi Far dire a me E tu come hai reagito? Mi ha scopato Ho detto Va bene Fammi sapere dove Quando Come Benji e Fed Finita Perfetto Però mi hai rovinato La battuta di scena Se può dire No c'è stava Dai era un po' un featuring Sì esatto Che cavolo Io pure voglio la mia parte La punchline L'hai fatta te Vabbè se vuoi puoi raccontare La tua Comunque non ho più sentito Voi sapere quella Il cantante No dai Dimo quella vera Così famo il tiktok Dimo la vera Storia Di una cazzata Ma quella camera È un po' bruciata Su di noi Non capisco Mamma mia Come è preoccupato Di non venire bene No c'è una paura Sai Con il format mio Ma il rec è quella Se non vedo la luce accesa Ma ne parliamo Ma ne parliamo Allora È un cazzo Un cazzo? Nel senso A quello c'è stato Ho messo una foto Allora stavo a Peschiera del Garda Metto una foto da Bono Allo specchio Ma sei raccontato una storia vera? Non la devo raccontare Ma vuoi la storia vera? Se volete No però la devo raccontare io Perché già stai partendo Da metà dell'opera Se dici così Vai parti da tutta L'opera No non si può raccontare La storia vera in realtà Non me la sento Non me la sento Racconta la tua È troppo ricca di particolari Oddio ma mi sta a far venire le paranoie Stai con altro Stavi? No Tu stavi con un'altra? No No Io sono sempre stato bello pulito No Dico se quando comincia Io l'avevo già Oddio Io l'avevo già E calla Alla domanda No assolutamente È sempre stato limpidissimo Tutto quello che ci ha riguardato No è solo che io sapevo Chi lui fosse Ah ok Levo ripartita Ok vai parti da Vabbè non importa È lunga C'è il buraccio È vero No però racconto S'abituato Faccio questo del lavoro Io sapevo chi lui fosse Perché l'avevo visto Sui social Però non avevo Un manzo del genere È un toscolo Lui documentava le giornate No Ma che Non usava i social Per riconoscere me Era una persona Che metteva solo foto di tatuaggio No mettevo foto di tatuaggio Ogni tanto qualche foto Da buono su Instagram Così per farmi Dugiavate Vabbè comunque No io Mi era capitato di vederlo Qua e là Perché magari Delle persone Che seguivo O piuttosto che Mi capitava di vederlo In delle storie Quindi l'avevo già visualizzato E mi sentivo attratta Da lui Non sapendo bene perché Non tipo Che buono questo Me lo farei Quindi non era Quel viaggio Sai che cazzone Ma poi tra l'altro Io ero fidanzatissima Quindi non era Quella roba là Però c'era qualcosa Di lui che mi attreva Tante via Ah e lui non lo sapeva però Ma no Perché non è che mi attreva Quindi mi devo fare le paranoie Dai sentite un po' A un certo punto Cosa è successo E questa cosa Io la trovo romantica Io andavo sempre Alle tattoo convention Sono sempre stata appassionata A Torino Andai alla tattoo convention A Torino All'inizio Quando entra la tattoo convention Ti danno un libricino Con tutta la leggenda Di dove sono I vari tatuatori E io sfoglio questa leggenda E vedo lui E dico Lo voglio andare a vedere dal vivo Perché l'avevo visto In delle storie E avevo detto Cazzo Fammi vedere se è un catfish No ma non è così semplice Non è che lo vedevo E dicevo è buono Non era quel viaggio lì Non te lo so spiegare Era più Questo mi deve Sento che Io sono un po' spirituale Matta Dico la verità No vabbè Cioè sentivo che doveva C'era qualcosa Doveva a dirmi Non lo so Lo dovevo vedere dal vivo Quindi vado col mio ragazzo Vado al suo stand No sono arrivata al suo stand L'ho guardato E ho detto Ora che faccio Che devo fare Ciao C'era senso Quindi mi sono detta Conto fino a dieci Se mi guarda Gli dico qualcosa Se non mi guarda Me ne vado Fighissima sta cosa Non mi ha guardato E me ne sono nata Da lì sono passati tipo due anni Da che io lo rivedessi Cioè da che ricapitasse Nei miei radar Sui miei social Questa è la storia vera Oh regà Mai raccontato E in quel periodo Io mi stavo frequentando Con un paio di ragazzi Decido di chiudere tutto Perché non c'avevo più Volevo di frequentarmi Con nessuno Volevo stare Con i fatti miei Non volevo niente Non volevo Sai quando dici Non voglio niente E arriva la persona Che ti stravolge tutto Quelle classiche cose Accanno a queste due situazioni Che avevo Niente di serio Ovviamente Vabbè ridico Ma no Chiudo queste situazioni E un giorno Mi capita Di vederlo E dico Cacchio Questo Allora tipo Gli metto dei like Tattici Ma non alle foto da bono Ai tatuaggi Giocatrice E lui ricambia Questi like Visto che in quel periodo Stavo annunciando La strofa Nel macete mixtape Quindi avevamo messo Tutte delle Post bianchi Per creare Il distacco Fra l'annuncio Lui mi mette like Ma solo ai post Completamente bianchi Personalità Hai risposto Personalità Così Perché non c'hai La foto del cane Se no ti mettevo La foto La foto del cane La so fa un po' lunga Lo so scusate Ma mi aduco io E so io il protagonista Mi sto annoiando Vabbè comunque nulla Poi alla fine Per arrivare a concretizzare Gli guardavo le storie Ma non gli rispondevo Perché io stavo aspettando Che questo facesse qualcosa Ma in realtà Non sapevo neanche cosa Era proprio una cosa Non so spiegarti Come quando ti senti Che qualcosa ti tira Ma non sei tu Cioè non è che me lo volevo scopare Non so spiegarti Volevo solo entrarci in contatto E lui Un giorno posta Una storia Da megabono Tipo allo spesso Con Lui ha una Cioè Sull'iPad Disegna Tipo il tatuaggio Come la spiego Vabbè Ma ero praticamente Simulato un tatuaggio In testa Con scritto Ci stanno i sondaggi Sì o no Ok Perché me lo faccio È un tatuaggio in testa Sì o no E lei Rispondo alla storia Ma non al sondaggio Alla storia E gli scrivo Sì Basta Mamma mia E da lì è nato tutto Sì infatti a casa Abbiamo un quadro Che io gli ho fatto Ho fatto un quadro In ordine cronologico I momenti più importanti La nostra relazione Da quel giorno 3 agosto 2019 Fino all'anno Io l'ho regalato Un paio di anni fa Un anno scorso E in mezzo C'è lo screen Di questa conversazione La foto Imbarazzante Frate Io così nudo Ho spesso Che rito da buono Ma venga ridere Però la cosa bella È che io gli ho risposto Sì E lui è andato A vedere le mie storie Io ai tempi Portavo le unghie lunghe Così Sì infatti Gli hai risposto Un sì Io ho detto Se te dai le unghie Te scopo No Ma figura Ti sarei scappata No Invece Molto Molto intrigante Invece Mi ha andato A cercare le storie E ha risposto A una storia Dove si vedevano Le unghie E mi ha scritto Io mi tatuo la testa Se tu ti tagli le unghie Da lì Giocatore Cioè Subito la giocata Una settimana dopo Stavo a casa mia A Milano Mamma mia Questa è la maxistoria Perché prima C'hai avuto da fare Capito No Non è vero Se no già stavo così In treno Se hai fatto una traversata Stava a Grosseto Si è preso 40 treni Per arrivare da me E dire Ciao Dov'è la doccia I presupposti Certo Perché a me mi piace Puli bene Tu lo sei lavato Di avere C'è una cosa C'è un meme Che dice Voi state nei suoi DM Io me lavo Le palle Col Suo shampoo Costoso Esatto Hai fatto quella cosa lì Esatto Esatto Io ho fatto magari ridere Perché mi sono cambiata Quando viene uno da te A casa E non l'hai mai visto Non hai confidenza Devi essere carina Ma spontanea Mi sono cambiata Quattro volte Per mettermi poi Perché dovevo essere In pigiama Da casa Ma neanche Pure noi maschi Se mettiamo le mutandette Fanno il pacco grosso Vabbè comunque mi sono cambiata Quattro volte Ha fatto super ridere Stavo così Che aspettavo Aspetta no Forse questa maglia È un po' troppo Ti sto aspettando Allora mi metto una cosa Un po' più semplice Così vabbè Quindi tu con un sì Dopo una settimana Poi abbiamo passato Una settimana A sentirci Tutto il giorno Tutti i giorni Conversazioni molto brillanti Quindi Sì però sono super imbarazzante Se risenti tipo Quegli audio No ma lui ha un'altra voce Io facevo tipo la voce Sì Te lo giuro Ma lui mi ha mega illuso E poi si è arrivato Oh ciao bella Sì sì Ma te lo giuro Non c'ha la Amore No aveva proprio un'altra voce I primi tempi che ridere Vabbè In realtà parlava Un amico mio Io apprezzavo Oh sentite C'è una voce bella Ma non è che Vabbè comunque Così è come poi Ci siamo conosciuti L'altra cosa carina È che poi lui è venuto Da me a Milano Ma visto che io Ero in quel periodo In cui cioè Io ero stata Cioè ero in un mood Tipo gli uomini Non li vogliono Non lo so Non voglio niente Non è che Vabbè ma stavi Con quegli attrezzi Stai Magari vedo una diretta Se la vedete Mi dispiace Non lo penso Io è lui che è matto Comunque Ma ha detto lei Poi che bello Che parlo al plurale Come se stessi Con tante persone insieme No C'erano dei tempi Comunque mi dispiace Fatto sta Che la cosa carina In realtà È che poi Quindi io non avevo Organizzato nulla Cioè viene una persona A trovarti dal sud Da dove cazzo stavi Organizzi Dai domani ti porto qui Ma essendo che Milano Non era la mia città È che io non volevo Stamente metterci energie In questo incontro Cioè ero proprio tipo Boh se vuoi facciamo un giro Su una via E siete fatti tre giorni a casa Ci siamo fatti due Un giorno e mezzo a casa E poi lui mi fa Senti ma se ne andiamo a Roma Col sole Certo volevo giocare a casa Era agosto Cioè era agosto Agosto a Milano Stavamo a Milano Oddio Agosto è criminalità però No ma agosto Aspetta sì Roma ad agosto Non è un bel posto Ma agosto a Milano No agosto a Milano Devi sparare Agosto a Milano È ancora peggio E stavamo peraltro Agosto Un caldo della Madonna E pioveva Pioveva C'era un tempaccio Io stavo fuori casa Quindi stavo tutto così E ho detto Senti ma ti porto a casa E siamo andati a Roma Siamo andati al mare Un po' matti comunque Sì ci piace No no Subito a Roma E abbiamo fatto la nostra Prima foto insieme Sulla spiaggia Ha fatta peraltro E' già Te lo ricordi No comunque C'è da dire Che Comunque siamo due chiacchieroni Spero che non sia Due Io non ho detto una parola Va benissimo Io stavo così Però avete dato una lezione Fighissima Di rimorchio Che è proprio la cosa Faccia da culo Cioè vado verso il mio obiettivo Che può succedere Sì 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 Al massimo ti fai Vabbè ma adesso Cioè penso che Al giorno d'oggi Oddio Sto di una cosa Un po' da boomer Da vecchietto Però I ragazzini d'oggi Ci danno una pista Allucinante Oddio non so manco Quale sia il metodo di oggi Dovrei chiedere a qualche ragazzino Secondo me i ragazzini Sono più allenati Sui social Sicuramente Però poi Cioè noi abbiamo fatto Comunque noi messaggiavamo Ma erano tutte Tutti video Tutti audio Non è che facevamo Certo All'epoca Se Gabriellino De Piavanzerà Eri finita L'ho sempre un po' Patita sta cosa Sì me l'ha sempre detto Mi sarebbe troppo piaciuto Rimorchiarla Magari ecco In giro Me l'ha sempre detta sta cosa No ma secondo me C'è sta Cioè Eh io la trovo Venga a Roma Per carità Cioè io sono felicissimo De come siano andate le cose Tutto quanto Vabbè se comunque Non stavi in serata Ma sei partito Però Cioè in conto Che ti faccio No ti dico questa Mi mandava Un giorno mi manda un video Che io ho detto Questo Smetto di rispondere Gli domani Lo ghosto Oppure me lo sposo Mi mandava i video Con i filtri Che c'erano su snapchat Che gli facevano il mascellone Con il suo bacione E mi mandava Mi ha mandato un video Una mattina Che ci parlavamo L'altro giorno Questo mascellone Lo sai se te pio Che te faccio Roberta E io non gli avevo mai Vabbè però non l'ho detto Questo dialetto da burino Ma se te lo faccio vedere Se te pio Ma che è De guidonia Eccolo Se te pio Con questo mascellone Lo sai che Ti appiccico alla parete Mi dissi tipo Una roba del genere Io tipo Questo è matto Non sapeva Roberto Quindi ragazzi Se volete rimorchiamo Andate il video Col mascellone E dite alle ragazze Caso si ma il filtro Si trova insomma Si si ma ce sa Quello che te fa pure il vocione Un po' chad Capito Io ero chad Proto chad La cosa più romantica Che c'è Che mi ha Poi la finisco La cosa che c'ha subito Un po' Che se la volete Usare questa tattica Secondo me è molto romantica Visto che noi eravamo A distanza Ci parlavamo da tipo Due tre giorni E io ho detto Mi consigli un film Classico Mi consigli un film Mi metto un film Magari manco lo guardi Però almeno crei quella roba No Io invece mi volevo vedere il film Quindi gli chiedo Mi consigli un film No è il primo film Che abbiamo visto Manco Bearbox Oblivion Con Tom Cruise Quindi mettete tutti Oblivion E stavamo Al telefono insieme Facevamo Dai metti in sincro Metti in sincro Così E hai messo play E hai messo play Si l'ha messo così Ma non stavamo al telefono Non stavamo passaggiando No 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 Aspetta Una volta messo in sincro A posto Magari se sentivamo così Nel mentre Non lo so Non ti ricordo Noi non avevamo una buona memoria Io non mi ricordo Ne abbiamo visti tanti in sincro Comunque Comunque l'ho trovata una cosa romanticissima Si era È romantico Ma ancora adesso Ancora adesso Quando Quando non siamo insieme Facciamo questa cosa E mentre finiscono Che magari lei sta a Milano Sta a Torino Io sto a Milano A Roma Cucciolissima sta cosa Super cucciolissima La mettiamo in sincro A proposito Mi ricollego a una cosa Una domanda che già avevo volevo fare Ovvero Come avete amministrato Il periodo di distanza Quello iniziale Le dici Si 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 Perché adesso Se potete convivere Ma allora Si noi conviviamo Allora diciamo che il primo Vuoi parlare un po' tu? No 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 Ok So abituato Il primo periodo Il primo periodo Allora diciamo che io e lui da subito Abbiamo Sai che ci sono quei rapporti Dove Cioè Io e lui da subito Tipo cozze Tipo simbiosi Tipo Oggi sto senza di te E secondo me la distanza Cioè pure Ha contribuito a sta cosa Capito Va avvicinato Volevamo sempre Cioè comunque il fatto che La serata non culminasse Insieme sul divano Vedere un film Era un problema Quindi In realtà siamo sempre riusciti Poi col fatto che io faccio Un lavoro molto flessibile Più di lui in realtà Io Cioè abbiamo sempre fatto Una settimana a Milano Tipo una Un po' a Milano Un po' a Roma Un po' a Milano Un po' a Roma Poi ci siamo conosciuti L'estate Massimo dieci giorni L'estate io non lavoro Perché tatuaggi d'estate Vado e retro E Quindi magari ecco Nel primo periodo Siamo stati entrambi Molto liberi Perché lei non Non c'aveva cose Io non avevo cose Stavamo sempre insieme Poi Successivamente Sai Io avendo avuto Relazioni precedenti Prima Lei aveva Relazioni prima Quando Quando c'è relazioni Magari E non fai una convivenza Per assurdo Noi ci vedevamo Molto più spesso Rispetto ad altre relazioni Che ci ha avuto A Roma Perché magari Lei veniva Una settimana A Roma Poi una settimana Due settimane A Milano E stavamo Sempre insieme Sempre insieme E poi da lì Quindi l'abbiamo gestita così Poi c'è stata una convivenza Praticamente sin da subito Poi c'è stato il covid Che è stata una convivenza Forzata Perché io Piuttosto che Io vivevo da sola A Milano Poi Milano non è la mia città Quindi io piuttosto che Rimanere bloccata A Milano Appena abbiamo sentito Aria di Io sono andata a Roma Da lui Appena si è parlato di Ha detto Senti vieni a Roma Tanto Pensando dai Tanto sarà Che ne so Una settimana E poi tre mesi Così La odio Non la voglio più vedere Eh vabbè Ce ne siamo dette Vabbè Non è facile I primi tempi Non è facile Ma pure se stavamo io e te Se stavamo io e lui Se stavamo io e lui È stata tosta Bene bene Quindi avete tirato fuori Un po' di regole Che è vedersi spesso Una volta ogni dieci giorni Massimo E poi passa Tanto tempo insieme E la cosa che ti hai detto È stata confermata Pure da uno studio recente Ovvero che il fatto che Qualitativamente Le relazioni a distanza Quanto meno i primi periodi Passano tempo migliore Rispetto alle relazioni In cui le persone stanno vicine Ma certo Perché quando ci dobbiamo vedere Dobbiamo dare il 100% Sì Sì Mentre ecco Se avessi Vabbè ci vediamo stasera Stacco Vabbè che faccio Non passo a fumarmi Una canna con te sotto casa Sì Sì Se fossimo vicini No No Non la fa Non la posso fare Perché lei non vuole No Non la fa Perché se poi escono Delle clip Ah è vero Scusate Se fanno dopo tre Da faccia vostra merda Vabbè Comunque Non mi ricordo più Che stavo dicendo Comunque sì Sicuramente Io devo dire Sono abbastanza pro Le relazioni A distanza Sì anch'io Nel senso Secondo me Io penso questo Che semplicemente Spaventino molto di più Di quello che poi Alla fine sono Bisogna essere organizzati Deve essere organizzato Io vedo pure amici miei Che hanno relazioni A distanza E fanno fatica Ma dipende L'intenzione Io avevo una forte Intenzione Di passare Tutto il tempo No Noi abbiamo pure La fortuna Di fare Lavori Che per carità Ci permettono Ma anche di gestirci Molto Cioè io Se riesco a organizzarmi Una settimana libera E poi la settimana dopo Mi voglio fare il culo Al lavoro E recuperare Tutto il lavoro Che ho perso Lo posso fare E fa tardissimo Al lavoro Lo posso fare Ci sono persone Magari ecco Avendo L'orario difficile Esatto Magari se devono Prendere il giorno Devono aspettare E' ovvio Che è più difficile Ovviamente Quindi da quel punto di vista Non possiamo parlare Però dal punto di vista Proprio relazionale Stare insieme a quella persona Fare cose Secondo me E' una roba Che spaventa molto Poi nel pratico Se c'hai voglia di farlo Lo fai Capito Ma come tutto Nelle relazioni Se posso dire Concordo Quando dici No Cioè se vuoi fare una cosa Certamente Lavoro permettendo Distanza permettendo Però Se vuoi tenere in piedi Una situazione Davvero Te va il culetto Eh sì Cioè ci sono situazioni Che richiedono più impegno Di altre Noi non siamo Sì Volei Bella impegnativa Ma stiamo parlando In distanza Volei Comunque Comunque ragazzi Volevo chiedere una cosa Una cosa De cui sono anche curioso Perché un pochino Mi tocca Come Vivete Il fatto Di essere una coppia Di persone Belle conosciute Comunque Se potete essere Belle Ah siete pure Cucciolini bellissimi Però Però siete molto conosciuti C'è qualche gossip Qualche roba Che intendi Cioè magari il gossip Il fatto che possano parlare di voi Che ne so Roba di voi Allora Quella roba Esatto Quando ci abbiamo avuto Un po' Un distacco Io personalmente L'ho accusato tanto Perché poi era Un periodo Una fase in cui Lei era molto chiacchierata Io Non lo so Ci ho avuto tantissime persone Che mi hanno rotto il cazzo Capito? Sicuramente Ma che è successo Che non è successo Che non è successo Loro si sono lasciati Loro E magari in un periodo In cui A te Già A te Del culo Che sono successe Determinate cose Non è facilissimo No? Sì sì E porco due Leggi il ragazzino Che te scrive E magari stai In un periodo Che non vuoi Ne sentire Ne parlare Ne niente Quindi sicuramente Non è facile Poi Che ti dico Per il resto Niente Nel senso Quando succedono cose brutte Facciamo le corna Che però magari Ci stanno litigi Che scazzi Sicuramente È pesante Se ti vengono A rompere il cazzo Però Ti dico Quello che ho imparato Poi da quella situazione Che ci siamo un po' Di sacchè Che tutti i cazzi tuoi Non li devi mettere No No Eravamo Mega social Noi Noi ogni cosa Facevamo insieme Capito Eravamo proprio Andavamo insieme No ma eravamo Molta condivisione Allora Io prima di lui Non avevo mai messo Nessun ragazzo Frequentante A parte che io Di fidanzati Ne ho avuti pochissimi Ma non ho mai messo Cioè io penso Che nessuno sappia Chi sono i ragazzi Con cui io mi sono frequentata Prima di lui Tranne chi mi conosce Meno male E Ormai è il meme Della giornata No ma questo Tutti i giorni No no Vabbè però aspetta È un meme nostro Come cucina una frittata E mi fa Secondo me Gli ex tuoi Mai sarebbero stati capaci Di fare sta frittata Tutto così Senti ma mi passi questo Come te la passo io Sta cosa Gli ex tuoi Manco sapevano Alzare un braccio Specifica una cosa Magari ci stanno gli ex sua Che stanno a guardare Io non so manco Istintivo proprio Condividerla tanto Poi c'è stata la quarantena Dove passavamo anche il tempo Vabbè condividevamo Un po' tutto quanto No quindi Giustamente Tutta la fanbase I piccolini Soprattutto i suoi Soprattutto i suoi Si affezionavano Un po' alla coppia Succede che ti lasci Succede il patatrack Capito Certo Però questa è l'unica cosa Che mi sento di dirti Sì se dovesse succedere Che lui un giorno Ci lasciamo Sarebbe un po' pesante Vedermi i video edit Oppure che lui Si mette con un'altra E mi taggano sotto le folle Cioè tipo È una roba folle Perché le fanno Le fanno queste cose Assolutamente E lui magari Ci lasciamo E fra un anno Si mette con un'altra E mi taggano Sì sì Scandaloso No ma Soprattutto il discorso Che magari fanno i video edit Quello è proprio Sciacallaggio È un po' Sì Proprio La vai a mina Sulla salute Ma io poi in realtà Li capisco Perché loro magari Carinamente Perché sono piccoli Se fanno un video edit Insomma saranno piccolini Magari sono affezionati Alla coppia E ci rivogliono insieme Loro pensano di fare Una cosa romantica Non si rendono conto Ok Però a parte questo Io devo dire Che noi la gestiamo Molto bene La Sì Il fatto di essere conosciuti Lo sai qual è il fatto Cioè abbiamo A parte che non siamo Così conosciuti Da dire Ti rompono Veramente Cioè tipo paparazzi O robe invadenti Nella tua privacy No no Ma poi Io e lui busciamo sempre Non ci facciamo nessun problema Se dobbiamo fare mille foto Le facciamo Sì Beh Non male Non male Ce l'abbiamo Beh ci abbiamo In volta che ci rompono il cazzo Molto educati Sempre educatissimi Capito Esatto I uomini con me E le donne con lui Cioè Nel senso che Vabbè Io sono sempre stata abbastanza rispettata Rispetto magari a altre mie colleghe Perché mi è capitato Che me lo raccontassero Non perché giudico Però che magari hanno una fanbase Di ragazzini Un po' più Magari il telefono Per essere In modalità aereo Laggiù Eh lo so Però magari mi chiedi Comunque Io ho sempre avuto Una fanbase molto educata Anche di uomini Di maschi E lui ha Cioè Non succede che ci siano delle donne Che gli rompono le scatole Penso per rispetto Nei miei confronti Per immagini Sì sì Sicuramente Pisciare intorno al territorio Mettendo storie insieme Quella è una cosa che te preserva un sacco No Non dico questo Però Guarda Noi non mettiamo manco tutte Ecco Reduci dalle cose passate Ok Siamo a base Cioè Però la gente lo sa Che sto con lei Non mi rompo nel cazzo Poi sì Succede Succede Che metti la storia da buono E ti arriva l'apprezzamento Però non c'ho Non è quella cosa molesta Cioè per assurdo Per assurdo Un tempo prima Che c'avevo Un terzo Abbiamo detto questa cosa Arriverò a no Ah no Secondo me ancora meno Cioè un terzo Del seguito Un terzo del seguito Che c'avevo prima Per assurdo Succede molto di meno Capito Ormai Lui ormai ha fatto Capito Sì sì A me è successa questa cosa A me è il lucchetto Capito Infatti parliamo De una cosetta Ricollegandoci A questo Io De recente Ho visto Una storia di Bebba Che protestava Contro gente Su facebook Che gli aveva commentato Se non erro Sotto un post Dei concerti Che c'avevi in programma In cui è rivestita Semplicemente In modo Figo Scenico Scenico E Cioè Come te lo vivi Il fatto di essere Magari oggettificata Dalla gente Che se ne esce Con queste cose Che come al solito Affibbia Magari il successo È una persona A livello artistico Se è donna Al fatto Che magari Che fregna Sì Mezza chiappa Oppure che semplicemente fregna Come te l'avevi Vista cosa Allora Ti dico la verità Io Non mi sono mai curata Di questa cosa Perché ho sempre avuto Un'idea ben chiara Di come funziona L'ambiente In cui ho scelto Di lavorare E funziona così Cioè È un ambiente maschilista Sessista Dove Le donne Vengono gettificate Dove Quasi sempre Se un artista È forte Dietro c'è un maschio Cioè Io ho ben chiaro Una serie di cose Da sempre E quindi Non ho mai dato modo A me stessa Di dare peso A queste cose E quella Infatti io non condivido mai Queste cose Cioè Non faccio mai Quel vittimismo lì Anche se può portare In realtà Alla luce Un problema Dal momento che Non è un problema Di cui io soffro molto Per fortuna Quindi la mia community È affezionata Ed è molto rispettosa Cosa stai facendo? Va troppo la pipì Ho bevuto troppe birre E non riesco a contenere Io pure Ma sto facendo Sì oppure mi sto a sentire male Ah ma c'è un bagno qua Fantastico No stavo dicendo Quindi Quella volta Dell'episodio di Facebook Fu perché Una ragazza che io conosco Che è un'atleta Olimpica Olimpionica Come si dice Oddio Olimpica Non so Penso sia abbastanza equivalente Linda Cerruti Che fa il nuoto sincronizzato Aveva fatto un post Facendo Visto che la conosco Conosco bene Suo fratello Che mi aveva Chiesto di Se potessi io dire Qualcosa a riguardo E visto che io Ho comunque Una voce Che ha Un certo Una risonanza Una certa risonanza Più di altre Ma meno Meno di tante altre Ma comunque Ho voluto anch'io Entrare nel merito Anche se parallelamente Ho scritto a lei Dicendole Lo so Che fa schifo Ma questo succede Ogni volta Che tu esci fuori Dalla tua community Quindi Sarebbe un sogno Che nel mondo Non accadesse questo Noi tutte lottiamo Perché questa cosa Non avvenga Ma è già un traguardo Che la tua community Ti rispetti Non so come spiegarla bene No no Molto bene Cioè a me questa cosa Io poi ho pubblicato Questo screen Di Facebook Perché La pagina Vivo Concerti Che mi ha organizzato Il live Quest'estate Ha messo una mia foto Scrivendo Queste le prossime date Di Beba Su Facebook Capirai Cioè ha fatto tipo così Sai le trappole Per le mosche Quelle con la colla A un certo punto Se tu vai a leggere Le commenti Cose che io non ero mai Andata a vedere Ma mi è venuta la curiosità Per questa storia di Linda Ho detto Vado a vedere anch'io Fuori dalla mia community Cosa succede Ovviamente cosa succedeva Questo C'è gente che Commentava Se io mi fossi fatta La ceretta o meno Piuttosto che Tutto Forché Solamente perché io Magari avevo Una posa Un po' più Piuttosto che Piuttosto Sì Perché mi si vede Linguine Oh mio Dio Oh mio Dio Capito Ecco E quindi cosa ho voluto fare Ho voluto dire Mi disgusta Il fatto che Non appena esci fuori Della tua community Nel mio caso Facebook Nel suo caso Era il giornale Era la pagina Non mi ricordo Coni Eh? Era l'atleta Coni La ragazza Sì Coni Credo che fosse La pagina dei coni Cos'è il coni? Penso il coni Il coni Cos'è? Eh vabbè Tipo Olimpia di Roba sportiva No io penso fosse Tipo il correre della sera No non lo so Comunque era una pagina Ah quindi su un giornale Sì una pagina Facebook di un giornale Ok Capito No non era Scusate non so cosa sia Mi piacciono i coni Capito Pensavo mi stesse Pensavo mi stesse Ah super cazzola Quindi cosa No no E coni Per essere un po' più sintetica Come me la vivo Io me la sono sempre vissuta Sbattendomene Perché se mi devo soffermare Su tutti Io metto una foto Dove annuncio il mio nuovo single In quella foto Mi si vedono i capezzoli E su 100 commenti C'è un commento Che mi dice La taia Perché succede Te lo giuro Ero io col fake Ma mi viene in mente questo Come me ne vengono in mente altri Cioè sinceramente Se mi ci devo soffermare Ma che cazzo Io non sto parlando a te In questo Cioè quindi non importa Ma penso che faccia un po' parte Della dinamica Come dicevi te Del arrivo al grande pubblico Entra nel calderone Un po' tutto Più esci dalla tua zona Più esci dalla tua zona di comfort Cioè lo devi mettere in conto Anche se Allora sicuramente Vai su Facebook Il cinquantenne Che sta a casa Gli rode Perché Sua figlia Che ne so Ti viene a commentare Ma io spero Spero vivamente Che non si tratti Del cinquantenne Piuttosto del ragazzino Tante signore Poi la cosa Sì 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 Delle donne di mezza età Io regà faccio una cosa Con una ruschia Che ti scrivono delle cose Che dici Ma stai facendo Sì 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 Io faccio una cosa Ovvero Quando Mi sento una merda E magari ho qualcosa Apro le foto delle donne E comincio a insultarle Comincio a insultarle su Facebook No in realtà vado sulla pagina Tipo di Tgcom24 su Facebook Qualsiasi notizia Me leggo i commenti Sì sì E mi rendo conto De quanto Ci sia da lavorare Si può dire che sono un po' subumani Assolutamente Vabbè ma c'è un'ignoranza incredibile Sì no ma c'è proprio un trend su Facebook È una cosa assurda Cioè potremmo stare qua a dire Ma tu Donna di 60 anni Che vedi me Che potrei essere tua figlia Che sta cercando di farcela con la musica E mette una foto Dove pubblicizza il suo tour Perché mi devi venire a scrivere Ah sicuramente questa è molto talentuosa Si vede Sì 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 Certo Allora io penso che sicuramente Però io non ho mai Questo per dire Si potrebbe dire tutto questo Io non ho mai fatto tutta Sta Polemica Perché Sono molto fiera della mia community E quindi preferisco concentrarmi Sull'elogiare la mia community Che non sul dire Tutte quelle donne Così Questo è il mio modus operandi Infatti non cagarsi Sto tipo di dinamiche Secondo me È una risposta giustissima Il vittimismo è una cosa Che io non ho mai Mai ho usato Nella mia Io credo che sia giusto Denunciare la cosa Però è anche importante Da parte tua Vostra Nostra Non sta a casa E prenderci se a male No Cioè È una roba che Va messa in conto Ed è giusto denunciarla Però Non ci flagelliamo troppo Sì no Perché se no Più si è esposto Più la shit Sorlo Esatto Esatto Cioè speriamo che domani Arrivino Cento miliardi di insulti Perché vuol dire Che sei bello chiacchierato A me del recente è successo Ho messo un video In cui dicevo Che secondo me La frase Deve sta bene Prima te Pe sta bene In una relazione Ho visto Abbiamo visto Ma è successo il panico Ma hanno C'ho ancora gli stitch Oggi a distanza Dei due mesi Però non hanno sentito Il video Ne abbiamo parlato Certo C'è veramente È lo stesso identico discorso Solo che succede molto meno Quindi non diventa un fenomeno E poi soprattutto Non si aggiunge a tutti I problemi di sessismo Che abbiamo in Italia Quindi non diventa un caso Però è lo stesso discorso Cioè io Non hanno neanche ascoltato Che cosa avevi da dire Ma hanno captato Dalla tua frase Che era un'occasione Certo Per dire la loro Perché tutti devono sempre dire Perché magari il tuo Diventa un nome chiacchierato Ed è Perché lui ha detto È conveniente anche Associarci E lo stesso vale Per la foto Di una donna Come vuole lei essere Lei vuole apparire così Non importa Più vestita Meno vestita Lei vuole apparire in quel modo E tu non hai mai sentito Una sua canzone Ma decidi È alla taglia Una sbucciona Cioè capisci Una sbucciona Che è lì perché è figa Cioè è una roba da subumani Però io Però la taglia è bella Però io Non posso mai svegliarmi Tutti i giorni E dire ragazzi Ho messo una foto ieri E sui 25.000 commenti Che ho ricevuto Cinque dicevano Questa cosa È una roba disgustosa Cioè Non trovo che sia giusto Neanche dargli tutta questa importanza Concordo Bravissima Concordo Ho fatta lunga Scusate Ci sono un po' Sono un po' No va benissimo Dai risposte bellissime Super complete Tieni conto Ogni volta che c'è Sto un problema Dentro casa È così Parapapapapapapaiu Sto cazzo Lui apposta Meme di quello Che viene in testa Così capito Allora A proposito di oggettificazione Sfatiamo un mito Ovvero che solo Le ragazze esposte Ricevono DM molesti Perché Non so A me è capitato Ma non so Se a te Gabriele È capitato Di ricevere Fotozozze DM molesti Da ragazzi Allora Assolutamente Mi mandavano i video Quando ci stiamo Conoscendo Allora Esatto Esatto Da quando Comunque sto con lei Ormai Sono dato Vabbè Ormai Spacciato Ormai Lui è spacciato Ormai Lui è appeso Scarpini Di scarpini Archiodo Molto di meno Molto di meno Però Sì Ancora succede E penso che Non ci sia Penso che Ormai sia Una roba Molto più Vabbè Io me la vivo In modo diverso Quindi se vuoi dire La tua Poi Come me la vivo Nel senso Che intendi Che sto là E faccio Così Oppure La vedi come Una violazione Una violenza Assolutamente No Nel senso La prendo a ride Capito Sì Sì Ok C'è È una roba Che è una roba Che è un Esatto Nel senso negativo Lui è molto leggero Su questo Lei si lamenta Del fatto che io Sia poco empatico Però io È ovvio Mai Non riesco A vederla Come una violenza Ma molto probabilmente Ti dico Non posso saperlo Però se fossi stata Una femminuccia Stessa cosa Non l'avrei vista Come una violenza Sarei stato là Così Con le amiche mie Capito Che intendo Chiaro No invece per me Io sono una Che se tu mi commenti Sotto una foto Cretina Ti odio La tua musica Mi fa schifo Faccio Ok Non importa Piacere a qualcun altro Ma se mi scrivi in DM Mi rispondi a una storia Dove parlamici Con quelle labbra In quelle labbra Ci vuole infilare Il cazzo Io ti blocco Perché questa Per me è una violenza Questa è l'unica cosa Cioè tu mi puoi insultare Perché la mia musica Ti fa schifo E io rispetterò sempre Il tuo gusto musicale Anche se sei maleducato Perché non c'è bisogno Di scriverlo sotto le mie foto Se non ti piace la mia musica Vai a seguire qualcun altro Ma visto che per fortuna Non mi succede spesso Perché devo dire Sono una Che se non ti piace la mia musica Ti fai i fatti tuoi Però se tu mi mandi Il cazzo in DM O mi scrivi delle robe Ma poi sono sempre dettagliate Quindi magari io le leggo Ma perché noi maschietti Siamo più fantasiosi Non ti scrivono delle cose Io c'ho Amanda Gli hanno scritto giorni fa Una cosa allucinante Ho detto Questo come l'ha Immaginata questa cosa Ne abbiamo pure parlato Però vedi Cioè a me Spontaneamente Mi viene da ridere A me no Perché io penso Ma io sto prendendo il caffè Sto guardando le risposte Alla mia storia di ieri Dove dicevo magari una cosa Che non lo so E io mi posso mai Mangiare e bere il caffè Mentre leggo Cosa tu vorresti fare Vado a vedere la foto Sì ma per me Sei un disperato Capito Sei un disperato Però io Devo proteggere Il mio sentire E per me Quella cosa è violenta E quindi io ti blocco Basta Ma io te è più importante Non ti rispondo Non faccio le storie Tanto quello domani Se ricrea un fake Te lo rimanda Se invece lo snobbi E invece devo dire che a me Succede una volta Ogni sei mesi Grazie a Dio Quindi penso che funzioni Perché non è che mi succede Così tanto che dici Oddio Capito Io per esempio Sul discorso Cioè quando magari Mi arrivano le foto del culo Cioè ho sempre avuto Sta cosa magari Con gli amici Che gli amici mi dicevano Eh vabbè Ma te dovrebbe lusingare Come cosa Alcuni A me invece Mi dava fastidio Perché dico Io la foto del culo A parte che ho un culo Decontestualizzato E manco sai Che è quella persona Può essere pure un bel culo Però è un culo Cioè tu me stai Mandando un culo Cioè non è una persona E dici Mezzo me dà pure fastidio Cioè ma almeno Arriviamoci Cioè ciao Dai Con culo Ok Ho ancora peggio la patata Vedi sta cosa E dici Ok A me disturba A me mi fa lo stesso effetto Quei cazzetti che mi mandano Mi fa quell'effetto Come leggere la frase Perché io mi devo immaginare Anche se non so chi sei Potresti essere un bono Ma non mi importa Ma perché mi devi fare sta violenza Mi fai schifo E poi dimmi una cosa Regà Cioè Le persone che mandano La foto del pipo Senza consenso Inflazionano La foto del pipo Cioè quando te stai A sentire con una ragazza E gli mandi una foto del pipo Deve essere una cosa Dei valore Ricercate Certo Invece le foto del pisello Le mandano tutti Ma poi secondo me Non mandano mai loro Cioè mandi una foto del pisello Non è niente di che Capito Invece deve essere valoroso Comunque No devi essere A me la cosa che fanno tanto Se me mandi Nel vostro caso Pisello La patata Così senza Cioè non me mandi La tua Non è possibile Perché se me mandi Il tuo Eh anch'io penso Sempre Sei matto Anch'io penso Sei matto Perché Può essere una forma D'esibizionismo Esatto Esatto Magari c'hai I cazzi Tu hai Mandati i piselli Comunque Ma è una cosa che fanno Che per dirti Non mi dà Niente fastidio E che magari a volte I ragazzini Non so perché Mi succede questa cosa Quando sono magari In gruppo Mi fanno gli audio Da sbronzi Dove mi dicono No Peppa Hai capito Io te amo No perché Dicendo Io se tu Delle cose Ma non violente Non so spiegartelo E quella cosa La piglio a ridere Ok E mi trovo anche teneri No Ma quando ti scrivono Quei messaggi così Che sembra Perché io devo Fare così Quando tu mi fai schifo Ti blocco Soprattutto se vedo Che è una cosa Che fai più spesso Ecco Se succede una volta Solo ti do Il beneficio del dubbio Ma quando vedo Che è la quarta volta Che tu scrivi Una cosa del genere Basta Io una volta Tipo a 17 anni Ho mandato Un audio D'Ambriaco A Drake Però non mi ha mai risposto Però non mi ha bloccato Allora ma poi ti dico questo Io una volta invece Da ragazzina Ho mandato Stavo a Cagliari Ho mandato un audio A Salmo Chiedendogli da fumare Eppure lui Eppure lui È perché era l'unico De Cagliari Che conoscevo Eppure lui Non mi ha risposto Vabbè È andata così È andata così Va bene Allora Ti faccio Un'altra domandina Piccantina Ti è mai successo Nel tuo lavoro Giocatore Quindi Prima mi paghi Poi se volevo Chiava Chiavamo Un 20% Un 20% Sì Paghi l'IVA Vediamo Vabbè dai dai Un buon compromesso No però Però succede Cioè è successo Nel senso Quindi non è un falso mito Non è un falso mito So rare le volte Che mi è capitato Che fossero così sfigliate Molte altre volte Me l'hanno Fatto Intui Capito O magari Comunque Se siamo bei ragazzi Succede che Che te rompino il cazzo Magari Poi vogliono pagare Però succede Che ci sia un po' La cosa Che ci vogliono provare Sì Lo percepisci Poi ti dico Da quando sto con questa Figurate Sarguinzaglio Sempre di meno Immagino Ho notato una cosa Ho notato una cosa Non scherzo Quando te lo dico Che Quando so single Quando so stato single Ormai Manco non mi ricordo più Prima della pensione Oh Tatuavo veramente Era 50% maschietti 50% donne Mo ho dato solo Di picava Anza Che vengono la cacere Capito Eh vabbè È così È così C'è stato poco da fare L'ho detto Ho pesi quantoni al chiodo Sì 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 Ma è giusto È un processo Che uno deve accettare L'ho scelto L'ho scelto Non mi paga nessuno Figurate È una scelta Eccola Beba Che torna Insomma dicevamo Da Lazio No Lazio è Bagnez Che ha fatto quella pabe Ragazzi mi avevo Posto chiedere un'altra Biretta Ragionavo più lucidamente Grazie mille Perché se no Non c'è Balbetto Beh certo Più bevi Più parli liscio Comunque ho sentito tutto Dal bagno ovviamente Allora Ho detto solo cose belle Certo Ho detto che sono finito Sono disperato Una cosa Pre-relazione Quindi Se si può chiedere Cioè Vi è mai capitato Tipo Una roba Tipo Ormai Sono conosciuto Non posso Andare con questa persona Non posso farmi Che ne so Vi è mai capitato Questa cosa Io sono andata Molto Molto In sbatti A un certo punto Del mio percorso Molto prima di conoscere lui No molto no Diciamo che io ho iniziato Ad andare Bene Fai nel 2017 18 Ok E da lì sì Sono andata un po' in sbatti Perché Non è che potevo andare A letto con chiunque Nel senso Non è che potevo cedere Magari a degli impulsi Perché mi facevo la para Magari poi questa persona Lo fa per parlarne con gli amici Piuttosto che Magari racconta cose Della nostra intimità A determinate persone Cioè Non lo so Oppure viene a letto con me Solo perché so Beh Cioè io non volevo Sono andata parecchio in sbatti Ed è il motivo per cui In realtà Poi Ho selezionato Un paio di persone Di fiducia Davvero Cioè a questo livello Sono andate in sbatti Che ho selezionato Un paio di persone di fiducia Io non ero interessata Ad avere una relazione In quel periodo E Un paio sì Due o tre persone E Senza A avere Una alla volta Sì Uno alla volta Sguardo preoccupatissimo Ecco sì E quando c'era l'occasione Mi vedevo con una persona Cioè quando c'era quella cosa lì Poi lavoravo molto Quindi non era il mio Però sicuramente non andavo a letto Col primo che capitava Cioè avevo delle persone Di cui mi fidavo Che sapevo che Avevano anche rispetto Della mia professione Della mia professione In qualche modo Quindi sì Ti dico la verità Io sono andata Perché sbatti Prima di conoscerlo Perché per esempio Io pure ho avuto Sta cosa Nonostante Sia meno conosciuto De voi Perché poi a me Mi sento anche Un pochino Gettificato Tra virgolette Perché il sessuologo Chissà Io so Questo che me combina Io so la teoria Rega La pratica Non è bene Questo c'è un cazzo Grosso Come sta tazza La ragazza tua Ha fatto confermo Sì sì confermo Poi ha piato una sola Rega Ha letto il sessuologo Nell'abbio Ha detto Sto a posto Per tutta la vita Hai capito Volevo mettere pure io E invece Ci sono state volte Che ho detto No non lo posso fare Perché poi magari Dici Eh no È una cosa Che mi ha mandato Mi ha dato fastidio Ma fratello Io sono famoso Da due giorni Mi vedo l'ora Che maccarna Porco tu sei Che combino È vero È vero Bene Comunque sì Assolutamente Faccio un'altra domanda E qua C'è un attimo Allora Passiamo a domandine Un po' più stronzette E vai Una cosa Che a letto Ve la fa salire Cioè durante La voglia Durante prima Dove pare Ma con lui Nella vita Cioè in generale Nel senso Non tra me Lui Le nostre cose Pure nelle vostre cose Quello che volete Vabbè A me Cioè l'emmo Si è rifatta Esise Quindi appena Si scoperchiano Ma io non l'ho mai detta Pubblicamente Queste cose Vabbè ma come se non se ne fossero accorti Vabbè ma come se non se ne fossero accorti In che senso In che senso è In generale Pure tra di voi Ci sta Penso tra di noi In generale In generale o tra di voi Come volete Pensavo nella coppia Pensavo nella coppia No no L'ho chiesta Possiamo dire Quindi sicuramente Mi piace molto Se Prende in mano La situazione Non so se posso Cioè Essere presa per il collo È una cosa che mi piace molto Per esempio Bene Una cosa che ve la fa scendere Vabbè tantissime Ah io ce l'ho Ma non sempre non tra di noi Cioè in generale Io ce l'ho A me me la fa scendere Se fai Se non sei Se fai Me la fa scende Se mi dai l'impressione Che non sai Cosa C'è che fai Però vuoi Ma non puoi Vuoi ma non vuoi Non sei chiaro Non sei chiaro La situazione Un po' da indecisione Non sto parlando di te In generale Quando sei tutto Capito Vabbè a me Quando si mette Una cuffia Ma non stavamo parlando di noi Vabbè ormai pensavo Fossimo casolini Nella coppia Cioè ormai Non mi ricordo manco Come fosse con le altre donne Come volete Come volete Free A me dà fastidio Quando le donne La notte Vanno a dormire E si mettono Una cuffia nera In testa Perché altrimenti I capelli Gli si cosano Gli si stropicciano Io ho i capelli Molto molto lunghi E quindi Che c'è qua Un pezzo di scotch E quindi Quando vado a dormire Visto che Sono molto lunghi Le garli Si rovinano Metto una cuffia Di raso Una cuffia bella Con l'elastico Sicuramente le donne La conoscono Perché così Se no il giorno dopo Mi sa io con i nodi Qua sotto E poi si rovinano I capelli Vabbè fatto sta Che qua Cosa in testa Manco col cazzo De Mario La scoperei Capito Vabbè E lei mi fa Bebi andiamo a dormire Vieni con quel coso Porco duro E te rovinano Quando ti metti a dormire Te rovinano E te rovinano Quando ti arzi Capito Te svegli E dice No Te sdrumano La giornata Vabbè Comunque invece Io in generale Rispondo in generale A me me la fa scendere Quando Non sai cosa stai facendo Non Non fisicamente Tipo che stai col pisello Sì Oh Lui ha capito benissimo Lui deve sempre fa la gag Oh ma come faccio Tu hai capito Quando Non tecnicamente Un po' di L'impacciataggine No l'impacciataggine È anche carina Quello però è passato Quello è passato Che intendi Ah è troppo complicato Vabbè non lo sa Non lo sa Non lo sa Dovunque io guardi Mi caschi l'occhio C'è scritto Ciao ci sposiamo L'hai fatto Dovunque Sul suo computer Là Io non Non l'ho mai letto Ah ciao ci sposiamo Ecco l'ho letto Sul computer dove Vabbè vabbè Vogliamo parlare un pochino Di progettini Ci sta Partiamo da Gabriele Che domani esce una hit Esce la prima puntata Da seconda stagione Di Tolkien Giusto? Sì Con Gue Con Gue guest Che tra l'altro Grande scopatore lui Grande scopatore Parla per esperienza L'ha detto proprio Con quella No no nel senso Ecco com'è nato Tolkien Esatto Vabbè ve lo dico Insomma No tra l'altro Tu parli spesso di sesso A Tolkien Cioè Sì mi piace Mi piace Mi piace No Vabbè Spesso nel senso Ci sta Quando ho invitato La povra bebbina Era un po' Meme Che io gli chiedessi De sesso Io stessi là Tutto così Imparanoiato Che ne so Con Fred De Palma Con lo Nella vita Chiava E fa musica Esatto Sta più 1500 Quindi Che gli chiedo Capito Una volta Gli ho fatto Domande Di musica Che gli devo chiedere Con Gue Non lo so Gue gli ho chiesto De sesso Ah sì 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 Io l'ho chiesto Io l'ho chiesto Quindi domani Vedetevi assolutamente Ve prego Vedete Ve l'ho lavorato tantissimo Si dirà quanto Gue bomba Esatto Se parla solo De quello Bene bene Quante puntate farai Più o meno La seconda stagione Se dice Allora no Non se dice Ma perché non lo so Nel senso È sempre un po' Un Lo scopriremo Solo vivendo Esatto Ok Lo scopriremo Vediamo Cioè sicuramente Ci fermiamo Per l'estate Come è stato Per la scorsa stagione Ma perché Per lo stesso motivo Che ti dicevo prima Scusa ogni tanto Faccio i rottini Ho bevuto troppe birre Sì sì Io pure Quante volte Ho già detto Questa frase Ho bevuto troppe birre Non sei per niente Professionale Vabbè ma qua Siamo in famiglia Comunque sia Comunque sia Non lo so Perché l'estate Ci fermiamo Che la gente Non si vuole tatuare Quindi Indipendentemente da tutto Al contrario Di qualsiasi Io sono l'unico matto Che sei tatuata estate Perché devi aspettare Sì no infatti Capito No quindi Se estate ci fermiamo Voi vediamo In caso Se fare una terza stagione Ma aspetta Ancora siamo a lavorare Alla seconda Si vedrà Si vedrà La prima è una hit La seconda Sono sicuro che sarà Sì Ancora meglio Ancora meglio Quindi molto bene Tu Beba Noi progettini Qualcosina Io sto lavorando Al disco nuovo A un progetto Proprio nuovo Però Non ho Granché ancora Da annunciare Perché è tutto un po' In corso d'opera Però Sono molto contenta Di quello che sto facendo Non posso dire questo Posso dire che Mi sto divertendo tanto E che Sto sperimentando molto Che diciamo Il mio disco Ha fatto un po' Da ponte Fra quello che Ero prima del mio disco E quello che sto diventando adesso Quindi Mi sento molto In divenire Ecco In questo senso Figo Però non ci da fare Purtroppo Perché ancora ci sono delle cose Da stabilire Un po' a livello burocratico Infatti Infatti Tranquillo Però Ho tante cose pronte Che non vedo l'ora Di tirar fuori Insomma Bene bene Molto bene Siamo super curiosi Ma parliamo pure di sesso Preferisco Ne parliamo subito Prima ti volevo chiedere Che liquido Stai a fumare Io sto fumando E no Poi gli fanno pubblicità No Solo il gusto Solo il gusto È un tabaccoso Vai provare No Quel cazzo C'ho il mio cookie Ah Tu sei più pedolci Però mi hai risposto male Gabriele Cioè T'ho detto Quasi Non sai che Sono un po' sensibile A chi Cioè Il tabacco No No Sì Tipi Lasciatemi in pace Questo tabacco No È una cosa un po' dolcina In realtà Io ho fumato Un botto Senza aroma Cioè Lo usavo tipo Barilotto De nicotina E basta Non fumo a me Le sigarette No La mia Manco c'ha nicotina La uso solo Per quando faccio le interviste Perché mi dà un tono Un po' più Un po' più cazzuto Non è vero Non è vero Non è vero Bene Adesso parliamo Un'altra volta Di lettuccio E sarò stronzo Un'altra volta Un'esperienza bruttina A testa E poi una di coppia Quindi tre esperienze bruttine Io faccio questa rubrica Su Instagram In cui Chiedo Le esperienze imbarazzanti A letto Che possono essere Tranquillamente divertenti Non necessariamente Tragiche E quindi Chiedo una a voi Allora calcola Io C'ho Molte Più esperienze Negative Che positive Quindi devo scegliere E stiamo a parlare solo De quelle con me No No Pensa a quelli dei famosi Allora Se vuoi parto io Che già ce l'ho Non so che c'avevo Io c'ho avuto delle esperienze Raga da film horror Ma te credo Ma hai visti Dai Vabbè Comunque sia Parto io Perché già ce l'ho pronta Io ce l'ho troppe Non so La mia è bella Allora Ero regazzino Ero regazzino Questa la conosce pure lei Pensa gliel'ha raccontata A mia madre Sì veramente Come così Ma non so Manco vuole sto a dire Sì la so bene Vabbè Fatto sta che Senti che succede C'è una vecchia fidanzatina No È stata la mia fidanzatina Di quando Sai quando c'avevo Dai 15 anni Ai 19 anni Che succede Che io la notte Uscivo di casa Per andare a casa sua E entravo dalla finestra Super romantica La cosa no E mi facevo le chiavatine mie La notte Che succede Che io rimanevo lì A dormire Tutta la notte Poi che ne so Alle 5 del mattino Prendevo Riuscivo dalla finestra Tornavo a casa mia Mi facevo una doccia Andavo a scuola Che succede Una volta Non mi sveglio Che succede Che succede L'ho detto tante volte E ogni periodo Lo rinizierò Che succede Che succede Che praticamente La mattina Sentiamo bussare Alla porta Rigorosamente Chiusa a chiave Perché Non si sa mai La madre Che doveva prendere Una roba dentro Fai conto Doveva prendere La cinta La borsa Dentro la camera Della figlia Allora noi subito Se impanichiamo Che faccio Che faccio Che faccio Mi metto Praticamente Ovviamente Rigorosamente Nudo Mi metto Sotto al piumone La figlia Cartoccia il piumone Ai piedi Del letto E io mi metto L'ha sdragliato Tipo così Ma comunque Questa non è L'esperienza Prontessa Tipo così Asvastica Perché occupavo Meno spazio Non si poteva dire No va bene Penso vada bene O no Sì sì Associata a una neve Divertente Va bene Vabbè Tipo così Quel simbolo là E La madre entra La prima cosa Che fa E vede Ci stanno I pantaloni Mia E scarpe Mia Io me la immagino Da fuori Che fa Tipo così Così Scopernia Scopernia Il piumone Mi ritrova A me Asvastica Così Tutto Cormocione Cormocione E là E vabbè Niente Sono stato esiliato Da quella casa Pensi Sa quanto tempo Che imbarazzo Poi che lo Conoscendolo Non me lo immagino Con la testa bassa Così Ti voglio Così Capito E Te lo giuro Ce ne ho Cioè Perché io Imbarazzantina Divertente Non brucia Allora Possiamo cominciare D'accontata mia No perché voleva sapere Anche quella Ne voleva sapere di più Lui voleva sapere Una di coppia Io una di coppia Ti posso fare un micro Riassunto Ti posso Di quello Che ha fatto finta Che la mia vagina Avesse un problema Non riusciva a infilarlo Ok Io non so Non mi è mai successo Cioè pure io C'ho avuto problemi Non mi è mai successo Io però Ero inesperta Quindi non ho Non ho avuto La prontezza di dirgli Forse Guarda Sta qua Cioè Ti posso Non lo so Poi mi ha accannato Ti posso raccontare Di quello che sudava troppo E quindi Stava sopra E stava sopra E mi crocciolava Adosso O di quello Che ha infartato O ha finito di infartare Te lo giuro Ti è morto uno dentro Questa forse è la più divertente E lui è anche più recente Ma che mi sa Te lo dico Recente che vuol dire Un mese fa Ma bevi no Ovviamente T'ha posto Di recente Escludendo te Cioè di quattro anni fa Ah beh Insomma Sono tutto un bestialito Vabbè mi sono vista Tutto fatto di birra Mi sono vista con questo Che mi ha creato Un po' l'aspettativa Mi ha corteggiato Anche per un po' di tempo Tra l'altro E poi Quando ci siamo trovati Lì Lì Vabbè Posso parlare chiaramente Lui lo infila E dopo due secondi Finge tipo di star male Di avere un infarto E mi dice No mi batte molto il cuore Io Che è una cosa Che mi è già successa E va tipo in bagno E io mi spavento anche Dico cavolo Questo non sta bene E poi è tornato E si è messo a dormire A posto E poi Perché si è fatta Aviva un bagno sicuro Esatto Esatto Ma io Lì ero grande È venuto in bagno Capito Ma io ho detto Ma stai fuori Ma Cioè tutta Vabbè Lui per la parvenza Lui è andato lì Per la parvenza Con le mie amiche Questo è sempre stata Una gag geniale Comunque Vabbè Aveva quello Che è infartato Così Nulla Poi il giorno dopo Lui mi ha salutato Con un abbraccio Ed è finita così La storia Lui ne racconta un'altra Comunque Ho saputo dire Ottimo Racconto un'altra versione Tutta sua Tornando al discorso Super erotici Io gli mandavo i video Col faccione A O7pio Ti schiaffa il muro Ti dò una scopata Che ti ricordi Tutta la vita Si è detto Mo devo arrivare E la devo sfondare Questa Vabbè Fatto stare Vabbè Che fa più ridere Faccio parco due Arrivò là Te sfondo Te faccio un bucio De culo Grosso come un secchiello Arrivò là Che succede Non mi si è addrizzato Il cazzo E questo non è tutto Attenzione Non gli si è addrizzato Il cazzo Abbiamo detto Vabbè Siamo fatti una risata Siamo andati a dormire Quattro ore di pausa Io ho fatto così Pizzicotto Sua cuaccia Tranquilla De scopo domani Domani mattina Sai che dici Vabbè Dai Ci penso domani mattina Quando domani mattina Dai Chi non ce la fa Che c'ho da fare Chi non ce la fa Si sveglia Che fa Che fa Chiama sua madre Ha chiesto l'aiuto da casa Ha chiamato sua madre Nell'est Avete la voce Guarda La chiamo Mo La chiamo Mo Gli chiamo Che è successo quel giorno La faccio raccontata Mi madre Non è il caso Vabbè Sua madre è un personaggio Adesso Non è una mamma Vabbè In vita è impuntata Mi madre Va bene Succede un macello Succede un macello Comunque nulla Questa è stata La roba più assurda Che mi sia mai successa Che io il giorno Dopo chiamai Le mie amiche E dissi Questo ha chiamato la madre Nel letto Nudo Con me lì Intanto sono tre anni E gli diceva Mamma Non mi serrizza il cazzo Che devo fare E mia madre Tranquillo Tranquillo Cioè Vai Poi tanto Dai a chiavi Non demardere Ma in viva voce Con lei tipo là così Lei tipo col piumone così Io nel letto così In viva voce La cosa più bella è in viva voce No non era C'era il telefono così E io mi ricordo Però lui diceva davanti a me Cioè ne che dici Sai vado a fare una passeggiata Chiamo mia madre No nel letto E io mi ricordo Hai capito che personalità Stavo nel letto così Stavo nel letto Con la coperta E pensavo Questo è fuori di testa O mi innamoro O domani gli sparisco Proprio E ne rideremo per sempre E a qualunque mio amico Vi abbia mai raccontato Questa storia Cioè nell'immediato Non adesso ovviamente Mi hanno sempre detto No sparì Ma se vuoi Perché non hanno fegato Però non lo so C'è sta cosa Che chiami una mamma Nel letto È un po' cucciola Però anche un po' Tipo Che personalità Capito Sì 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 Mamma scusa Non mi sei addrizzato Io una volta A mio padre Che lo dissi Perché l'avevo fatto In macchina Con una ragazza Però l'avevo fatto Ciretissima Però non stavi in viva voce In macchina con qua ragazza No 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 Tutti capaci Capito Tutti fenomeni No no io questa L'ho riaccompagnata a casa Tutto preso a male Vai Così Oh scusa E il giorno dopo Che ho detto A mio padre Guarda stavo Stavo in macchina E Ho sentito pressione E lui mi ha risposto Quella cosa più bella Di tutte È stata La pressione La devi mettere Sulle rode della macchina Quando lo fai Bellissima Mi ha detto proprio La soluzione a tutto Vedi quel giorno Avrei dovuto chiamare Tu padre Il numero di mi padre A chiunque Ci abbia problemi Io chiudo la mia carriera Da consulente sessuale Dico sentite papà Stefano Lui vi dà la soluzione Va bene ragazzi Io direi che ci siamo Vi ringrazio Ancora un'altra Ancora un'altra Ok 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 Ma perché sto ancora A metà birra Allora deve finire la birra Ci dovevi invitare Io te l'ho detto Se vuoi continuare Hai firmato la tua condanna Bene 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 Ma sì ma su Twitch Sono tutti i sordi In più Che che te frega Bene bene Allora facciamo un po' Di domandine infamine Chi è? Ah fantastico bellissimo L'aiuto al pubblico Ok Bebba soffre il solletico Questa è una domanda Che mi fanno spesso Questa è una domanda Sì che mi scrivono sempre in DM Deve una domanda un po' Secondo me è sempre il solito Che sta rota Sì ma lei c'ha Lei c'ha le paranoie Di sti cazzo da arrapati Sì è una domanda da arrapato Ma fallo felice O soffre il solletico Sì certo Sì ma chi è che non soffre il solletico E questo io mi chiedo Quando mi fanno queste domande Qualcuno di voi qua Non soffre il solletico? Dipende dove Ma se ti faccio il solletichino Sotto i piedi O qua nei fianchi Perché a lui A lui A lui Gli fa sesso Il fatto Il pensiero Che io a te ti faccio il solletico E te con i piedi fai così Capito? Comunque sì Bebba soffre il solletico Cioè Il solletico se soffre Sì dai Non lo so E infatti Cioè È una cosa mentale Che se ti arrivano Ma non capisco Ma io penso Che sia più una cosa Che lui si immagina Il piede Che hai capito? Ma questo piede Che si aggrensisce Sì Io per dire Io non c'ho il feticcio Io c'ho la pante Se farsi Così fa Cioè porco due È una cosa Veramente Ma è così È una cosa Meno erotica È una cosa È una cosa Che cazzo È Lampredi Il nutrizionista mio Che mi sta guardando diretta Probabile Probabile È Lampredi Signor Francesco Io le chiedo perdono Ma sono a Milano E a Milano è tutto concesso A Milano Anzi che bevi a Milano Non fai altro Ho visto la tendenza Ma non fai un pochè Ovviamente Perché a Milano Giustamente la cosa Che si fa È mangiare pochè Non me drogo Non bevo super alcolici Non vado con le altre donne Una birra concedetemela Sempre così dice Ma infatti È la citazione mia Voglio che me lo scrivino Scrivano 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 Sulla tomba Sulla tomba Molto bene ragazzi Adesso voglio farvi Una domanda Chi di voi Per primo Ha fatto la cacca Dentro casa dell'altro Cioè chi ha sdoganato Questa cosa A fratele Magari non lo sai Già t'ho cagato qua dentro Io so così Io so così Io prima che ti ho detto Scusa Sai la birra Devo boom Cagato In 30 secondi Ma comunque Questa è una bugia Perché tu Cioè C'hai bisogno Non è che sei uno Che fa la cacca In giro Fratello Ogni tanto mi dice A me semmeno del culo Semmeno del culo De cago nell'autogrill Mi appoggio pure Amica no Oh io regal posso dire No io ho cagato dappertutto Io a casa tua Non ci sono stato Ma ci ho cagato Probabile Io Comunque Io c'ho sta cosa Che Cioè io se la devo Fa la faccio Sì Io Ti cacciavo Io ti cacciavo Fa la fenomena Porco due Allora Se mi devo sentire male Porta giù il cane Ancora non avevamo preso il cane Capito No Allora Allora Io ho un intestino timido Nel senso Faccio fatica Anche se sento Che devo andare in bagno Faccio fatica Se non mi sento a mio agio Nell'ambiente circostante Ci ho detto Se mi devo sentire male Ci vado Aspetta Quando non hai confidenza Perché mo No All'inizio con lui Mi ha detto Che lui ha una casa strutturata Mo non badi a spese Porco due Lui c'ha una casa strutturata Ti ho detto che non devi dire queste cose Facciamo i conti a casa Lui c'ha una casa strutturata La gloria In un modo un po' stupido Per cui c'è Tutto comunicante Porta salotto Tutto che ti passa da una parte Non è una situazione Che mi mette a mio agio Io sono a mio agio Nei bagni Con le finestre Al fondo della casa Dove stai Dove stai tranquillo Eccetera Lui non mi ha mai fatto Star tranquilla Quindi mi entrava nel bagno Le prime volte che andavo a casa Come facevo? Ah Lui mi entrava nel bagno Come facevo? Non me l'aspettavo proprio Ecco E poi entrava E diceva Che puzza Cioè La mettevi a suo agio Tranquillamente Ma delle robe traumatiche Quindi io ci ho messo il mio tempo All'inizio Allora posso raccontare Un meme figo Aspetta All'inizio per creare Quella situazione là Io gli chiedevo Ho bisogno della mia privacy Va a prendere un caffè Che ti costa? Io ci metto dieci minuti Torni su Ma uno magari Che ha tre volte al giorno Io devo andare a prendere il caffè al giorno Adizionali a quelli che già me prendevo Ma io Cioè una volta la mattina Vabbè voglio raccontare un meme figo Ho paurissimo di quello che dici Dentro casa Casa Perroni Che è il mio cognome Allora Ogni tanto vado da lei E io faccio Roberta Poi quando mai? Già questo è sbagliato Così tipo tutto scocciato Che arrivo in salone Così tutto No Stai per raccontare una stronzata Perché mi ha bucato troppo Io te lo dico È una stronzata Però mi fa È una bugia Cioè aspettate Non lo fa Te lo sto dicendo Che faccio adesso La gloria eterna Oppure Te lo sto dicendo Te lo sto dicendo Fidati Lo so cosa vuoi raccontare Lo so benissimo Non lo fa Che è un meme Che non è mai successo Cambia argomento Scusate Non posso raccontarlo Ok Ah frate era la svolta Porco due Erano tanti È una stupidaggine Che racconta sempre Non fa ridere nessuno A me mi fa tanto ridere Capito Piantala Comunque ti abbiamo risposto Anche al mio pubblico Avrei fatto ridere Porco due Faccio una storia Oh ma no No di questo Non è niente Vabbè Rovinato tutto Va bene ragazzi Io direi che ci sia No non possiamo concluderla così Se poi le raccontano Una barzelletta Qualcosa Allora Qui chiedono in realtà Un aneddoto Su una canzone Di Beba Che palle Eh Dario Eh fai quello Fai Qua uno dice Gabri racconta Quando ti ho molestato In pubblico Mi sa che è quello Che mi fece la pippa Via del corso Ah ok ok Sì ma è successo pure a me È successo pure a me È uno che mi hanno preso Un quattro Mi hanno tenuto così E uno mi faceva una pippa Stato su Twitch Posso di tutto Sì 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 Tranquillo Se deve Bene Uno per me Teneva Roma o Torino Chiedono Roma tutta la vita Torino è una merda Torino tutta la vita Perché devi dire così Perché Cioè io non mi permetto Di dire Ma guarda che È ovvio Vedi che ha bevuto troppe birre Cioè sta lì Tutte le cose che mi danno pastiglio Sì Stavo gentilmente Stavo gentilmente rispondendo a una domanda Che ci hanno posto No tu hai detto Torino è una merda sciatta Cioè è casa mia Non ti permette Oh fanno una domanda figa Meglio sesso da ubriachi o fatti Da fatti Da ubriachi Porco du ma che sei matto Fatti di canne Fatti di canne dici Sì Se io mi faccio Una canna E poi faccio sesso Le ultime volte Che mi è successo Facevo sesso E pensavo Cazzo ma l'ho fatta La spesa Poi pensavo Poi pensavo Cazzo ma l'ho detto A voce alta Cazzo ma l'ho detto Anche questa cosa A voce alta Capito A cannate Specifichiamo che non era con me Comunque No era con te Era con te No Eh se vedi che non l'ho detto A voce alta No a me per esempio Cioè se io faccio Mi fumo una canna A parte che mi fumo Al 2017 Perché Ma Frede Sai che ti combina una canna Sì no Mi sdarena L'ultima volta che mi sono fatto Una canna Stavo al concerto E di Vedder Nel 2017 Ho pensato per mezz'ora Adesso mi hai fatto La cacca addosso E non era E non era Eddie Vedder No no C'era Eddie Vedder Tra l'altro Due ore e mezza di concerti Io stavo un paranoiato Frasico Sai i concerti Che te tocchi comunque Io stavo così Perché dico No La gente con la spalla È molesso Per le altre persone Poi pensavo C'era il sudore Era a luglio C'era il sudore e mezza Ero convinto Di essermi cagato addosso Dico ma com'è possibile Poi dopo un po' Ho pensato C'avevo solo la palla sudata Esattamente Dopo un po' Ho pensato No ma non è cacca Sarà pipì E quindi c'avevo Il telefono Accendevo la torcia A fare finta di far video Quanto avrei voluto esserci Per inquadrarmi i pantaloni Apro te Apro te Apro te Strigni Te hai cagato addosso o no No Savo solo un paranoiato Però mi ricordo Che quando Che quando fumavo E facevo l'amore Ogni tanto te cagavi addosso Ogni tanto Te cagavo addosso Vabbè Io comunque preferisco Fatta A parte che sono ubriaca Tendenzialmente No non è vero Tendenzialmente Perché io sono ubriaca Ma Amanda Sei mai cagato addosso Con te presente No no In realtà Succede spesso Orgasmo Cagata No succede spesso Io sono tipo papera Mangio E devo andare a bagno Quindi ogni tanto Stavo a mangiare Capito Stavo pure nelle conversazioni Marzo Ciao amore Se siamo visti Se vediamo tra una mezz'oretta Sì 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 Pure lei È una cosa allucinante Poi ha detto Una cosa vera Qua farò una sponsor Al veganesimo Alle persone vegane Dice La cacca non puzza Io non ho mai sentito Puzza di cacca Di lei Che tra l'altro Mi ha convinto Del fatto che le donne Facciano una cacca Che io Prima non c'è A fratea fidate A fan No sì io pure Cioè sta 40 minuti in bike Comincio a sentire tiktok Dico sta cacca E mi sa che lei Non è vegana Se ne sta andando Allora il fatto qual è Che lei Dopo a casa Mi romperà il culo Perché io parlo De lei Associandola alla cacca Però non capisce Non capisce Che è un meme Capito Che lei più fa così Più io ce devo scherzare Ma io c'ho un po' Il tabù sulla cacca Cioè l'ho risolto un botto Stando con lui Ma avrei raccontato Vuoi inserire quel meme Però ce l'ho sempre avuto Che era proprio divertente Ma perché l'hai ridinato fuori Perché a me Mi distrugge Mi distrugge Mi distrugge La cosa più divertente Comunque io preferisco Scopare fatta Che ubriaca Preferisco scopare Che fare la cacca Perché a te Non ti si deve addrizzare Porco due A me Se sono ubriaca Tendenzialmente sono arrabbiata Molto spesso Tendo a essere arrabbiata E se sono molto ubriaca Non mi ricordo Quindi il giorno dopo Non ricordo che abbiamo fatto sesso Quindi vuol dire Che ero molto passiva Tutto quanto No io c'è un problema Sia se fumo Che se bevo Il pisello mi si atrofizza Cioè mi sepolverizza Cioè perdo qualsiasi pulsione Sessuale che ci possa avere Io pure E quindi Cioè mi capita Che magari vado a ballare Così e bevo Però c'è solo tipo La goliardina Ah no aspetta Se io bevo Se io bevo Mi sento un toro Sì io mi sento un toro Se fumo sono finito Però posso dire una cosa Che lei Quando beve Pensa di essere passiva Ma È caliente Ah interessante Però poi non mi ricordo nulla Il giorno dopo Esti cazzi Bebba soffre il solletico E quando beve è caliente Questo è lo scoop Di questa live No dovete far cagare Oh no Io ho sbagliato No ma io sto giocando Allora lo sai che è Che io gioco È che non è dei libri Allora per quanto mi riguarda Le donne non fanno la cacca No lei fa una cacca Una cacca Lei fa una cacca Una volta al mese la cacca Per quanto mi riguarda Perché veramente Non la vedo mai Cioè non succede mai Che dice Io vado al bagno O almeno me è presente Però mi fa tanto ridere Il fatto che lei si agiti Se io parlo di cacca Con lei Associandola alla cacca Vabbè dai Tutte noi donne Abbiamo un po' Sì c'è un po' Vabbè io la racconto Io la racconto A me mi frega un caccio A me mi frega un caccio Allora Sti cazzi Maccano Che una volta Sono andato Del là in salone E gli faccio tutto disturbato Tutto disturbato Vabbè magari a loro Gli fa ridere A me mi fa ridere Ah dico Vai vai Una volta tutto disturbato Vado del là Gli faccio Comunque Cioè fai attenzione Perché sei andato al bagno E non hai scaricato Mamma mia Distrutta frateca Un po' Tecnico Mamma mia Ovviamente non era vero Però è questo che mi fa ridere Lei va in sbattere La cosa che mi fa ridere È che a me è successo Invece a lui Con lui Che fosse vero E ti posso dir E sti cazzi E quando io gli ho detto L'ho fatto apposta No l'ho fatto apposta Spero No dai No comunque io C'ho troppo Sono proprio contenta Che hai raccontato Sta cazzata E non ha riso nessuno A casa Se vedi come se stanno a tagliare Capirai Comunque tu non hai mai superato La fase anale Sai quella dei bambini Che la cacca No Freud è superato È solo che le donne Non fanno la cacca Diciamolo Nemmeno Bebba fa la cacca No non è vero C'è Samantha Che ne strocca ogni volta Col dittino così Non è vero No no Le donne fanno la cacca Ma nessuno gli ha fatto ridare Cosa di Ho trovato la cacca Ho sentito male Grazie Grazie A te ti ha fatto ridere No 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 A voi ha fatto ridere A tutti Ma lui non fa te a ridere Da quando è seduto là L'ho visto Da quando sei seduto Ha riso Vabbè Vabbè se ne andiamo Dai Una cacca positiva questa Se può chiudere Dai È stata Eh vabbè Anzi no Domanda finale Che faccio sempre Mi stavo a dimenticare Sì Lazio e Roma No vabbè Roma per forza Anzi Torino o Juve? Toro Toro E infatti ho saputo sta cosa La gente di Torino Ti fa Torino I torinesi veri Ti fanno il Toro Chiaro Calabria Il vero Sabaudo Ti fa il Toro Bene Volete lasciare Un messaggio Per quanto riguarda Le relazioni O il sesso Anzi uno a testa Lo lasciate Se vi va Io Io consiglio Di parlare Tantissimo Di tutto Che sul momento Può sembrare Cavolo Se dico questa cosa Uno Ho paura diventa vera Due Gli do troppo peso Magari diventa un problema Che in realtà Non è No Se c'è qualcosa Che vi sentite Di dover snocciolare Con il vostro compagno Fate Con la vostra compagna Fatelo Perché in realtà Parlare delle cose È l'unico reale Modo Per crescere insieme Questo io penso E se proprio Dovete parlarne Con qualcuno Con me Dice mamma No no Io dico Parlate tra di voi Parlate tra di voi Cioè invece di stare là A farsi Ma forse a lui Questo ma io Perché io E soprattutto Non proiettare Sugli altri Le proprie Insicurezze Quindi Perché se poi L'altra persona Fa la stessa cosa È Cane che si morde la cosa No Cioè La relazione magari Comincia ad avere Di buchi Dei problemi giganteschi Che sono dati unicamente Dalle insicurezze Dell'uno e dell'altro Che vengono proiettate Quindi Che ne so Io non mi sento attraente Quindi in questo periodo Non ho tanta voglia Di venire a letto con te Lui di conseguenza Si sente un po' Rifiutato E pensa Forse io Non sono attraente E lei non vuole più Venire a letto con me Ma invece che comunicare Lei di conseguenza Dice questo non prova Venire a letto con me Anche se io In realtà Allora lui Non mi trova effettivamente Ho fatto un esempio banale No 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 Precisissimo Questo è proprio Un classico esempio Di poca comunicazione Concordo E è una delle cose Più giuste Cioè la comunicazione Io una cosa Che consiglio spesso Ai clienti O in generale Sui social È proprio quello Di parlare tantissimo Di sessualità O anche proprio Di quello che si pensa All'interno Della relazione Cioè giocare molto A carte scoperte Di tutto Perché devo rimanere Col dubbio Che forse questo Ho con la sensazione Cioè se una cosa Mi turba In quel momento Devo Se non è Sano Cioè se non è La descrizione Di rapporto sano Poter snocciolare Ogni cosa con te Cioè che un po' Anche mettersi a nudo Con l'altro Nella relazione Nella quotidianità Oltre che a letto Di conseguenza La sessualità Ne risentirà Se io non mi sento Di mettermi a nudo Con te Nella nostra quotidianità Nei problemi più classici Più semplici Dai problemi più seri Perché non mi sento Accolta in questo Non mi sentirò Bene Questo tico Un punto di vista femminile In questo caso Allo stesso modo Non mi sentirò Non mi sentirò A mio agio Davvero Bene E serena Nel mettermi a nudo Con te a letto Concordo E penso sia un discorso Anche al di fuori Il caso è chiuso No sì vabbè Perché volevo Magari questo è il mio punto di vista femminile Quindi non volevo fare un discorso Sì sì Però io questo penso Sono pienamente d'accordo Anche dal mio punto di vista maschile Ed ecco qua Che poi magari si creano Dei problemi Nella sessualità In comprensione Che però dipendono da altre cose Sì anche perché Ricordiamoci che c'è stanno studio Che cito spesso Che dice Che la corrispondenza Tra quello che noi pensiamo Che il partner pensi E quello che effettivamente Il partner pensa È di 0.16 Che in statistichese Vuol dire un cazzo di niente Esatto Quindi dobbiamo parlare Esatto Bisogna comunicare Bisogna comunicare esplicitamente Te Gabri Ma un po' spiazzato lei Ormai qualsiasi risposta do Mi sento un po' superficiale Penso che abbia detto Un po' Un po' tutto lei Dovrei pensarci un po' Non è tanto bravo Lui in queste cose Qual era la domanda? Un messaggio Che vuoi lasciare Sulle relazioni O sul sesso Era un po' preso Dal suo discorso E Allora Una cosa che magari Hai imparato Dici cazzo Se l'avessi saputa prima Eh il fatto è proprio questo È proprio su questo Mi stavo un attimo Cervellando È che Molte cose Molte lagune che ho Le ho Le ho colmate un po' Banalmente Con le esperienze No? E capendo che Molte volte Paranoie che avevo Robbe Sono riuscito a snocciolarle Proprio Poi facendo più esperienze E capendo che Le paranoie che c'erano Nella mia testa Erano solo nella mia testa Capito? Chiaro E Quindi non so se Se il consiglio giusto sia Fare esperienza Fare esperienza Hai detto una cosa giustissima Dal punto di vista Forse non ho Tutte quelle competenze Per Per dar consigli Perché io Sulla tua esperienza Esatto La mia La mia esperienza Me la sono costruita Facendo esperienza Capito? In realtà hai detto una cosa Giustissima e fighissima Dal punto di vista Psicologico Aspetta Ogni Ogni laguna che ho avuto Ogni laguna che ho avuto In realtà Mi ha Mi ha un po' preceduto Lei dicendolo Ne ho sempre parlato Con Col mio Partner Quindi O con tua madre al telefono Ancora prima con mia madre Quindi Comunque Esatto Ti faccio un esempio Io sono molto Metodico Metodico Razionale Pragmatico Pragmatico Quindi se io ho un problema Ok Provo a studiare Quel problema Provo a capire Perché ho quel problema Che possa essere Con internet Che possa essere Rilazionandomi Con le persone Che ho attorno Con le persone Perché su forum Al femminile Esatto Eh vabbè Porco due Se non faccio bene io Vabbè Insomma un consiglio Per queste nuove generazioni No per tutti Non per le nuove generazioni No ma ha detto una cosa Fichissima Perché dicevo prima Dal punto di vista Sia psicologico Che sessologico Non fermarsi Non fermarsi Alla paranoia E incatenarsi Nella paranoia Ma continuare A fare esperienze Allora io mi ci sono ritrovato Non sto giocando Non lo dico perché Ci sta lei qua Io il primo problema Veramente concreto Che ho avuto È stato con lei Che sarà perché Magari mi piaceva tanto Sarà perché ero tanto preso L'aspettativa pure L'aspettativa Tutto quanto Il fatto che Comunque si era creato Quel contorno Per il quale Dicevo parco 2 Ma vado là Faccio il toro Che quando Mi sono ritrovato là Stavo Cioè Erezione proprio Manco corbinocolo Ed è stato Il primo problema Concreto che ci ho avuto Perché Mi è successo Anche in passato Che magari sai Fai la serata Stai un po' Umbriaghello Tutto quanto Non tesadrizza il pisello E vabbè E poi Passa Mezz'ora Non ora E vai Riesci a conclude Con lei invece Che è successo Che Niente erezione Giorno dopo Niente erezione Giorno dopo Sono entrato nel panico Sono andato proprio Nel pallone Quindi è stato il primo Capito Ostaco Lo scoglio Che ho avuto Nella mia vita Perché poi per il resto Sempre a gonfie vele No Sì È il classico Che non mi era mai successo No Non so No E veramente Non mi era mai successo Mi era successo Che magari Che ne so Mi succedeva Veramente Dopo la serata E vabbè Ero giustificato Dal fatto che avevo bevuto Ma lei era I 4 di pomeriggio Porco 2 Stavo tutto in forma E niente E come Come Hai risolto Esatto Proprio questo Me la sono gestita Ho detto proprio Io sono stata molto brava Si può dire Buono un attimo Lei per carità È stata molto brava Però io buono un attimo Io buono un attimo Lei per carità Mi ha detto Tranquillo Così pacca su la spalla E così la doveva gestire Per carità È stata molto brava Però secondo me Sono stato anche molto bravo Io a non caderne Nel limbo Cazzo Pisello moscio No 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 Sono malato Sono matto Sono psicopatico Sono finito Basta Ho finito Per tutta la mia vita No io ho detto Buono un attimo Gabriele Isolamose un attimo Da tutto il resto Perché se no Se cadi in quel limbo È la volta buona Che in te Si arsa più navida Quindi Calma Ogni volta che stavo A letto con lei Provavo a focalizzarmi Sul momento Sulla cosa A esternare tutto il resto Eravamo io e lei Boom Mazzatura Gli ho dato una scopata Che stai ricordata Fino Vabbè comunque Ci ha messo un mese No ma che cazzo Stai di no Un mese no No un mese no Sì Ma che dici Un mese Quanto due Ma che dè Lui lega sempre questa cosa Questa secondo me È la vendetta Per la questione Ma è vero Ma un mese Perché magari Tutti i rapporti Che ci abbiamo avuto prima Non sono stati All'altezza Però Un mese no Alla tua altezza Stava dicendo Scusami C'è stato poi Napoli C'è stato Napoli E anche ora dopo Napoli Ancora dopo Napoli Ma a Napoli Ci siamo andati Dopo tre cinque giorni Ci siamo andati Lui non si ricorda più Ma io mi ricordo Vabbè comunque Hai fatto una cosa Come dicevi prima No il discorso È continuare a fare esperienze E non cadere il loop Della paranoia Cioè esporsi comunque A rischio Secondo me Secondo me L'esperienza aiuta tanto Nel senso Ti fa sentire tranquillo Capito Nel senso Quando cadi da cavallo Risalici subito Quella roba Anche il fatto Che dici Porco due C'ho C'ho un rapporto Ok È la prima volta Mi succede Qualcosa del genere No Ok Però io Mi succede una roba Come mi è successa Con lei Faccio buono un attimo Frate Ripenso a tutto quello Che magari Dalle esperienze Che ho avuto Ti danno pure Un po' sicurezza Da quel punto di vista Capito Mentre ecco Magari Se mi fosse successo All'inizio Avrei detto Cazzo Sì Che può succedere Anche all'inizio Mi avrebbe toccato Un po' di più Capito Invece Il fatto che Stavo un po' tranquillo Da quel punto di vista Vabbè Comunque forse Il consiglio giusto Non è tanto fare Tante esperienze Non mi sento Aspetta Non farsi Pietrificare Dalla paura Esatto Non mi sento Di dare consigli Non mi sento Di dar consigli Figurati No ma guarda Che con l'esperienza Cioè Quando ti ho chiesto Come Come hai risolto La cosa Hai detto una cosa Molto precisa E molto bella E molto giusta Cioè proprio Tante volte Il consiglio Che do io Magari a persone Che mi chiedono Per quanto riguarda Problemi di ansia Relativa A letto Cioè È proprio questo Quello di cercare Comunque A parte Il focalizzarsi Sul momento Comunicare Essere espliciti Non cercare Di nascondere Tutto E poi In sé No Crogiolarsi Nell'ansia A dire Oddio Non funziona Non funziona Più Avrò qualche Problema Andata su google Oddio C'ho Quello C'ho Quell'altro Perché poi Poi io Aspetta Una cosa Che mi è venuta In mente Una cosa Che mi ha Sempre frenato A me Per quanto Riguarda Tutti i rapporti Un po' Occasionali No Poi per carità Quando c'è stata La volta Che ero più preso Meno preso Per carità Però Quando magari C'avevo di fronte Una persona Che mi piaceva Particolarmente Però la roba Era venuta Tutta così Di corsa Senza Che se fosse creata Un'intimità Particolare In quel caso Mi sono sentito A disagio Ok Molto comune Più volte Più volte Con persone Che dicevo Vabbè Con questa persona Voglio costruirci qualcosa No Poi magari Con quella persona Non ci ho mai costruito niente Figurati Oltre alla chiavata Di quel giorno Non è mai successo Non è mai scattato nulla Però mi è successo Che Era un po' più Facevo un po' più fatica Capito Sì sì È un discorso Molto legato Perché Perché magari Quella persona Magari c'era un briciolo Più di interesse Ok Con lei è stato L'apice estremo Però anche In passato Persone con le quali C'era Un briciolo di interesse C'è stata un po' più De fatica Capito Sì sì È un discorso sempre De quanto metti Eh quanto Quanto stai Mettendo sul tavolo Che magari ecco Magari Non è che Non c'è L'erezione E tutto quanto Come magari è stato con lei Che per più giorni Sono stato così Però magari capito Sta un po' più Un po' più agitato Capito Come quando ecco Che mi succede Tatuare Devo tatuare la ragazza mia Devo tatuare Mi madre Sto più agitato E comunque Tatuaggi li faccio Tutti i giorni E come se niente fosse Capito Certo Più ansia La prestazione Banalmente Ed è detto Entrambi Delle cose Fighissime Delle cose Assolutamente Vere Assolutamente Utili Io vi ringrazio Per essere stati qui Da Facciamolo E un bacio Facciamolo Facciamole Facciamole È tutte e due Facciamole Grazie a voi ragazzi